Buongiorno, prima di tutto inquadriamo questa maglia bellissima che merita un primo piano assoluto sono in tenuta da casa, ho appena rassettato e spolverato qua in camera dal letto e stavo sistemando la mia spesa del CAD vecchia che ho fatto la settimana scorsa questo sarà un vlog ragazze un po' accroccato perché oggi viene Enza a casa e qualcuna vuol dire che è Enza, è la mia carissima amica e ha un canale anche lei su Youtube, si chiama Vincinci, comunque è lei e chi mi segue da tanto lo sa chi è Cucu, bene, doppia Alessia comunque intanto parto con oggi con questo pezzettino di video per farvi vedere cosa ho preso al CAD ero andata per prendere il colore per i capelli che sarebbe, 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 sarebbe ora lo trovo, Prodigy Color ho preso Castano Cenere l'ho pagato 7 euro in offerta e mi è venuto molto bene oggi o poi vi farò vedere e poi però ho trovato un sacco di altre cose in offerta come per esempio gli Agis Little Swimmer che li ho trovati a 6 euro e 50 invece di 10 euro e al mare questi sono, cioè io li uso più per la piscina che non per il mare però visto che costavano poco ne ho fatto scorta poi ho trovato lo Scrub Caloderma che è uno dei miei preferiti cioè questo lo adoro e questo l'ho trovato a 6 euro e 89 ho ripreso un'altra confezione confezione del Nidra intimo latte che è un bel boccettone da 500 ml ha un profumo buonissimo io avevo preso le saponette le sto finendo e Nello una volta ha detto prendi un detergente intimo prese questo l'ho trovato a 3 euro e ho deciso assolutamente di riprenderlo poi appunto come saponette ho preso queste che erano in promozione aiuto perché non trovo 1 euro e 94 saponette sono alla profumazione rosa vaniglia io le uso per lavare i pennelli poi ho preso un pennellino di Essence di questi qua angolati per mettere l'eyeliner io ce l'ho già a color verdino l'ho trovato così l'ho preso perché mi ci trovo molto bene era in offerta anche lo shampoo dei provenzali a 3 euro l'ho terminato ne ho altri da smaltire e da provare però siccome mi è piaciuto molto costava 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 poco e quindi ho detto lo prendo e poi ho preso un bagnoschiuma borotalco 1 euro e 19 da portare nella borsa di palestra questo formato pratico e poi ho approfittato della promozione prendi 2 paghi 1 degli assorbenti quindi con 3 euro e 46 ne ho presi 2 non mi soffermo troppo sugli assorbenti perché cioè inutile ora se riesco mi sciolgo i capelli sono sudatissima e sono anche contro luce I know ok però vi volevo far vedere il colore perché volevo un qualcosa di un po' più definitivo rispetto alla sì sono struccata ragazzi volevo qualcosa di più definitivo rispetto alla CC ha coperto molto bene i capelli bianchi ed è venuto anche un bel colore sotto io mi ero fatta dei riflessi di luce oh con la aiuto sono sudata fradice quel colorista tipo balayage qualcosa del genere infatti qualche riflessino ancora si vede aspetto che scarichi ma sono tornata un po' più scura ma penso che poi col mare si mi ritornino un po' più un po' più chiari e niente nonostante l'aria condizionata gna faccio e questo è Mattia che fa gna 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 e niente ragazze per ora vi saluto e poi ci aggiorniamo casomai o in giornata o nei prossimi giorni poi vedrete appunto tutto montato insieme e niente un bacino bambino polpettino sono quasi le una da 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 ciao abbiamo qua di 2 e 3 non si riesce brava viene più vicino abbiamo fatto un'impressione c'è il polpetto della zia abbiamo fatto tanto shopping cioè lei ha fatto shopping online per non scontentare nessuno si è dato d'affare su amazon che ha preso una cosa stupenda ieri sera mi fa che faccio lo prendo pendi straccia premi acquista che faccio ancora ci pensi un porta rossetti meraviglioso aspetta io sembro una befana mantieni mantieni oddio ma come sai attenzione cosa è pesante sei forzuta l'aspetta così lo devi mettere se no vengono crescite senza cervelle meglio guarda in che condizioni non mi si affronta poi ha preso su nabla e su mulac su mulac era troppo tempo vabbè niente sono troppo c'è sti capelli su nabla avevo aspettato di pucciare le cose sue ha colpito io invece sono in fase stand by si attualmente dobbiamo comprare altre cose dobbiamo comprare vestiti scarpe lei sta imparando un po' scarpe non come quelle non sabò no vabbè i sabò si usano quest'anno sti sabò ragazza non me li comprate per favore non si possono guardare vabbè comunque noi abbiamo il piede piccolo cioè ma quelle che hanno quelle fette di piedi in oro cioè alla fine scusami quanto c'hai 37 io c'ho 38 39 però sono scena a prescindere vabbè chi ha il piede più lungo proprio secondo me si rovina ma poi c'è ci sono modelli in modello alcuni modelli sono proprio brutti no ma i sabò sono brutti ragazze ho visto che meglio un bel sandaletto se ha più fine cioè sono proprio sciatti brutti cioè sciatti sì sono sciatti barboni anz proprio due cretini guarda la lacrima gioia mi ha fatto piangere buonanotte mattia sono cosciotto cosciotto della zia lo vogliamo tutte bene guarda che boccuccio poverino sbattuto un bambino un bambino che fa esperimenti sperimentatore lui russo va bene cioè ne abbiamo sonno però un po' dormiamo più noi del bambino è venuta bella sì per caso che mi sia cicchifettata tutta poi dopo faccio vedere la pasta faccio vedere cioè una ripresa se la merita anche la schiacciata che schiacciata del conad schiacciata del conad è troppo buona una volta un paio di mesi fa sono andata a mangiare con Nello a casa sua eravamo tutti e cinque insieme io non so quanta schiacciata e salame ho mangiato mi sono ingozzata Nello mio affettava perché ne abbiamo Nello mio e Nello suo la gente che ne fa perché è capitato due Nelli il mio è Nello Nello il suo è Nello Agnello cioè il mio è proprio registrato all'anagrafe io quando ho conosciuto mio marito prima di capire come si chiamava mi ha fatto uno spell no io gli ho detto tu Antonello chi è Antonello eravamo sotto l'ombrellone e fa l'amico no quello si chiama veramente Nello e rideva insomma ma io avevo capito io avevo capito che era diminuitivo no proprio Antonello avevo capito impossibile cioè Nello che poi ho scoperto che è tipo un fratello di un mio nonno di un mio bisnonno si chiamava Nello che dice un nome toscano ah si e poi mi fa gli è toccato prendere la carta di identità perché non ci credevo ma mi ha detto lo spelling proprio ma pure quando ci dovevamo sposare che vai al comune a fare tipo le pubblicazioni quella stava sbagliando a scrivere il nome mi stavo sposando con uno che non so che Nello deve sempre specificare qual è il nome e qual è il cognome e anche per Mattia perché ovviamente è il cognome di Nello e ogni volta dobbiamo specificare perché vabbè non è che Laura si chiamano però per cui domande a Tifanti dicono il cognome il nome patato mi dormi la mano la mano stupenda no niente scusa adesso dobbiamo più qualcos'altro da dichiarare? no basta la carta di credito è fallita non risponde più stop ah sull'ordine ce n'è ma laio io devo vedere le cose che ti sei comprata vabbè basta un'idea eppure io volevo dire qualcosa cosa? niente il bambino si sta sprusciando è ora di mangiare amore buon sonno ma che bello bello un piede mi sta dando un bacio no ancora sonno non c'era proprio di noi a dopo ciao dov'è il congiornotto? non so è bello qua papi guarda tu segno ma che è più bello te lo ci manca qualcosa non è finito ecco qua guarda provate un pezzo cosa fai così? scegli scegli cos'è questo? fa una struccante questa Mattia struccante detergente tieni te lo regalo bravo così si sceghera così con il tocchi gli è piaciuto non lo vuole mollare più questa non si sceghera Mattia questo di robe è più facile sceghera cos'è che fa? lo annusa eccoci sbuotamentos se magna se magna se magna se magna le ale 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 Mattia le ale 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 non lo molla non lo molla non lo molla mi figa sceghera 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 nooo andiamo a fare la pazza eeeh papapapale papapapale ale 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 mattia ale ma tu ti sei messa le mie ciallattine ah no ma io gli ciallattine dove le ho lasciate ma sono le mie ah di là da mattia ale 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 tutti i pazzi ale 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 sceghera mi cercavo di uno c'è mattia ecco e la zia non c'è più che buono questo fatto in casa sarà caldo iiii sei lì mi vado in piedi ciao ha buttato giù il ciuccio buona ha fatto un uovo con la testa è buona è buona ammè cianizzi hai vinto hai vinto ma è calda nooo perchè il pesto comunque era fresco è buona sì sì cosa tanta pappa tanta pappa però la torna anche bello ecco qua quanti denti quanti denti che c'ha mattia è pieno di denti amo nooo ammè mmm che pasta grande che mangi ma quello non quello massimo diretti non passa manco dal dio come dice la cosa in prigione senza passare dal dio monopoli sta guardando a te per mettere la pasta nei piatti io non so non te lo vorrei dire però ciao mattia ciao stai buttando tutte le cose giù patomatico proprio ciao ralo mio marito nel frattempo che sta dai smettila dai la famiglia di pazzi tutti quanti siamo dai nello vai fallo forza che vergogna la tua faccia deve riprendere stai a morire voglio solo far vedere i pomodorini che ha raccolto zia zio suo marito insomma zia zio un casino lui ma lo smalto qua è sminchiato facciamo così io sono rimasta così nello e sono pomodorini di orto sono bio sicura devi lavare vedi io lavo un po' volte di riguardo prima di mangiare belli che soddisfazione però ma buonissimo ho trovato queste all'asse lunga sono buonissimi buonissimi veramente somiglia al bagno molto simile buon buonissimi 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 buonissimi